26 positivi su 724 tamponi processati, il virus per fortuna rallenta, 6 contagia Boiano, 5 a Riccia, 4 a Isernia e ancora 3 a Campobasso, 2 a Termoli, Agnone, 1 a Ferrazzano, Poggio, Sannita, Serra Capriola e Gallo Matese, tamponi questi ultimi richiesti dal medico di medicina generale. Nell'ultimo bollettino Asrem preoccupano però i ricoveri nel reparto Covid del Cardarelli, 6 malattie infettive, due pazienti di Isernia, uno di Termoli, Campobasso, Sandagapito e Gallo Matese e proprio da Isernia arriva la grave denuncia della responsabile della casa di riposo Maria Gargani dove ci sono 47 positivi, una donna di 91 anni ha accusato una forte crisi respiratoria con un tasso di saturazione inferiore a 90, la responsabile del centro ha subito allertato il 118 ma il ricovero al Cardarelli è avvenuto solo a distanza di molte ore e al terzo tentativo, la nonina ora sarebbe in gravi condizioni, in terapia intensiva c'è invece il settimo ricovero, un paziente di Agnone che era in malattie infettive con il dottor Flocco che ha dovuto integrare un posto letto inizialmente destinato ai no Covid, 4 i dimessi, 27 i guariti, i casi attualmente positivi sono 1.258, 1.204 i asintomatici a domicilio, 1.322 i soggetti in isolamento, infine il dato nazionale sono 28.244 i casi Covid nel nostro paese, 353 i morti nelle ultime 24 ore.